Bella ragazzi siamo i Grannas e siamo tornati dopo mesi e mesi e mesi e mesi Con un joystick in mano Esatto e siamo qui per giocare e continuare su FIFA Online insieme Allora qui continuiamo il Road to Division dell'altra volta E mandiamo tipo abbiamo le stagioni online, eravamo in divisione 6 Ci mancava poco per salire di Lega, eravamo in divisione 5 Quindi continuiamo da questo punto qua Abbiamo fatto qualche nuovo innesto che non mi ricordo manco io quali erano quelli vecchi Quindi inutile parlare Qualche nuovo innesta Marcantonio 36 Prendete se vinciamo sti due siamo passati Oh guarda i yardi Te l'ho visto No, no Si raga ma va troppo male Cioè lagga la cifra Che gioco Maicon, maicon Ritardello Io penso che sia rosso Lo stavo a comandare io Oh no Ma che è? Ma che cazzo dici? Si vabbè dai Non stai scherzando Non hanno mai fatto un video loro un core del genere Gervinio, Gervinio, cerca un varco Gervinio, Gervinio, Gervinio In mezzo No Ma mortacci tua Tiraci Ma che era? Ma mortacci tua pensavo di allungarsi Guarin, 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 Guarin Perché tira col sinistro? Oh mio dio Guarin Se n'è andato Se n'è andato Guarin No guarda il telefono Guarda come va via internet Non rispondi O forse è meglio dei si Rispondi No 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 Ma Gervinio allunga Allunga sto passo Gervinio Addio a tutti Connessione mia Finita No eh Ciao Non so se segnavamo Che non si cata Non si può giocare così Forco due però E vabbè Allora vediamo se adesso andrà via questa cazzo di connessione di nuovo Perché come sapete io ho questo problema E quando mi suona il telefono Ogni tanto mi va via la connessione Non è il filtro Per quelli che già stanno scrivendo Già l'ho visti È il filtro Non è il filtro perché lo cambiavo tre volte E non è quello il problema Purtroppo Si ha il telefono dentro la camera Quindi per quelli che diranno pure Mettete il telefono in camera Cioè l'ho provate tutte le cose per risolvere questo problema Non mi si è risolto Devi cambiare a casa È semplice Oh mio dio Io me ne vado Io esco Maria No Mio dio Cioè è Dzeko È Dzeko Sì sì È Dzeko su Fino Porca troia Ecco noi c'è Musalano Stanno a sfruttare Hai visto? Vedi? Eh beh Questo è come sfruttare sarà bene Cioè questo è come sfruttare un giocatore Guarda secondo palo No Sì 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 No No Ma come non è gol Non è gol Fabio Salah Se ne va Doppio passo e se ne va Salah E voilà E voilà Ancora E voilà Salah Salah Eh Eh no Ma dai ma seriamente Oddio vattene De Guzman De Guzman Ma che cosa hai timato Eh vabbè Shallah Non ti preoccupare Che palle però questo Ancora Viejon si chiama questo Spagnolo Mia Tu madre È proprio una cagna Dai Mio dio Mazze palle Guardami fuori No ma te Perché hai fatto la skill L'ho fatta tre ore prima Pensavo l'aveva questa annullata Dovano a dritto È già messa Ma perché non hai data fuori Perché quello non mi è venuto addosso Ma sono saltato easy Ho fatta la skill 77 Vabbè no il pareggio ci serve In realtà Ci servono 4 punte Quindi è uguale Pareggio vittoria Non cambia niente L'importante è che non perdiamo Guarda come la tiri Per gufo Io non la tiro Non l'ho mai creato In questo all'articolo Juanfran Guardami Guardami là No ma perché Vai tranqui Vai tranqui Vai tranqui Vai tranqui E' Maicon Oh sì Mi sono ricordato Inter-Juve Porco 2 E' qua fuori Tranquillo Tranquillo Maicon Mamma mia che tiro di merda Maicon Porta C'è 0-0 Comunque va bene Ci sta perché La prossima partita Se la vinciamo Siamo passati Quindi va bene Se può fare Allora siamo qui Seconda Partita Siamo sempre qui Siamo sempre fatti Di Maria Questo c'è Lewandowski Non ce l'ha di Maria Però Quindi non è affatto di Maria Allora se vinciamo questa qui Lasciamo di Lega Quindi ciao Oddio Vuoto 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 Io sto ancora a pensare A quello lì Che No No Che cazzo Che cosa è successo Scusa Non lo so Rivediamolo Fabio Vorrei rivederlo Fabio Ha visto una bella Figa Ha detto Non vedi quella Per me stava tipo A pensare Altre cose Guarda Vedi Guardava al pubblico Oddio Curipa lì Curipa Perisic Perisic Arrabianic Io non so Se fosse Perisic Pur io Meno male Tu hai reso come se fosse una coreva Si Vedi l'importante è crederci Se tu credi di essere una gazzella Lo sei No Non è vero A volte ti ritrovi ad essere la gazzella dello sport Ma Guarda come Ma perché L'hai tirato subito Perché non ci arrivava Si era allungato il pallone Per quello Ho detto Guarda come Mokako Ehi 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 Ma fa mai capire Se non cascano è rigore Tiraci No Vedi che questo è il mancino invece Tutte cose sbagliate Che cazzo stai Io ti ammazzo Si Vai vai Oh Tu madre Si Questa è una gazzata Oh mio dio Mateus Ho capito Era Pico Ain Che cazzo devo fare Oh se io vai Senso tu Si No Metticela un altro posto Fala palla Eh perché E' colpa mia Dai Poi fai questo cross di merda Dai E' colpa mia Esci per favore Gioco da solo Guarda mi passo un joystick a volta Gioco meglio Si Infatti se vi visto Ricordiamo preso Ragazzi tuo Eh cioè perché era colpa mia Ho scritto Ho scritto Ho scritto Ho scritto Allora guarda Tu mori no Che dici Tu mori Tu potresti passare Tu potresti morire Volendo Volendo Eh potresti morire ma E' verrai Stati però c'avevi sempre Gli neri Dalla fuori Oh mio dio Dalla fuori Stai zitto Eh bello Era bello No No Si 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 levate per cazzo da Ma che tiro era Che c'entro io poi Mi stavi davanti Ma io sto sempre dietro veramente Mamma mia Mamma mia mamma mia Si 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 perché ne avevo capito Oh oh I mortacci tua I mortacci tua Io adesso faccio una strage Di che? Di cazzi Di cazzi Si scopre la tua che na Шura Si poi 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 Tira dai Tanto lo segni Zero No no Non ci credo Non ci credo A lui passaggi Perfetti A lui passaggi perfetti, tecniche perfette, to the beat, che cazzo è? Ma io ti sorprendo e vado indietro Ecco Vai! A me sta intervenendo come amico nostro Noi no, un passaggio fatto bene e noi no Wow Ricordi! Non ha dato ricordi Che cazzo Piani È una giornata nera Dai che c'è tempo Dobbiamo recuperare Anche 3 o 2? Perché ha fatto 1 per Gordon M3 Piani, piani, piani No, no No che brutto Popola Nicolino Dai, basta Perera, 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 perera Perera Dai, abbiamo pochissimo tempo Però dobbiamo vincere Dai, cazzo Ma adesso è iniziato il recupero Vabbè, soddisfazione personale Sì Che non ci fanno un cazzo Perché tanto poi Pettiamo un punto alla prossima partita Arriviamo a un punto da Dall'andare Dalla promozione Oppure Se vinciamo Andiamo Quindi Niente Andiamo Andiamo Comunque ragazzi Se vi è piaciuto Lasciamo 5.000 like Noi ci becchiamo Come sempre Al prossimo video Grazie a tutto Ciao E ricordatevi che Anche domani alle 15 Io ci vediamo un nuovo video Un nuovo video Ciao Ciao